Ciao a tutti, eccoci in una nuova puntata di Porta a Porta. LOL scusate per l'epic fail, ho sbagliato programma. Stavo dicendo. Benvenuti a una nuova puntata di Trap, Tundra. Ecco, possiamo subito notare la mia oasi. Bella è. Con palme e noci di cocco. Vabbè, ora basta con gli scherzi passiamo all'azione. Questa enorme casa potrebbe essere piena di trappole. Andiamo cauti a entrare. Questa place non mi convince. Bah. Sembra non accada nulla. Forse non ci sono trappole. O è solo quel knob di Tundra che non le sa costruire. Ah 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 cacchio. Mi pareva strano. Shagurat e Tundra l'ornitorinco. Ecco fatto. Ora vi spiegherò come funziona la trappola. È una combinazione tra proprietà della sabbia e pistoni. L'unico problema è la dimensione della trappola. È molto estesa quindi è preferibile costruirla dentro una montagna per non dare dell'occhio. Inoltre cosa fondamentale. Non mettere mai le accensioni delle trattole alla prima pressur plate. Così il knob che cadrà dentro anche se non entra subito non capirà se c'è trappola o meno. Come vedete dal video, i pistoni aprono praticamente il soffitto. Lasciando cadere tonnellate di sabbia, che ora vi mostrerò. Visto è. Se qualcuno cade in questa trappola, non lo riconosce manco la scientifica. Splat. E così morì, e fu sepolto. Amen. Certo che, i pistoni, se usati bene, sono armi micidiali. Anzi al prossimo video, vi faccio vedere un altro modo per usare i pistoni. Questa è una piccola stanzetta, dove potete nascondervi o la usate semplicemente, per rendere la casa più realistica. Eccoci arrivati al finale. Bene se siete arrivati fin qui, vuol dire che siete Poumoua. Beh, nel video si è intravista. Questa struttura narcisista. Ho fatto la rima. Lola, ora farò esplodere una TNT. Come pegno d'amore, verso il nostro vero Dio. Matteo Montesi. Buttaci a te, buttaci a te. Fortuna che era, una TNT. Etica, tecnica, della moltiplicazione. Zzzzz, ok raga. Questo è il momento dei saluti. Saluto il mio FBK. Lui sa che vuol dire. Un saluto a Daniele e a Riccardo. Due miei grandi amici. Se volete essere salutati in un mio video, basta contattarmi su YouTube o FB o Schipe. Do i miei dati in descrizione. Ciao a tutti, bye Tundra.